Il Parco Miralfiore deve essere visto come un luogo di divertimento, uno spazio verde, un centro culturale. Questo è il messaggio che arriva da Lega Ambiente Pesaro, che denuncia lo stato della polmone verde pesarese che sempre più nell'ultimo periodo è finito al centro della cronaca locale e propone che venga realizzato un progetto per la sicurezza di quest'ultimo affinché venga restituito ai cittadini. Noi sappiamo qual è la situazione del Miralfiore, non è un caso che da un anno lavoriamo ad un progetto proprio alternativo all'attuale gestione per arrivare ad avere un parco intanto sicuro e per sicuro intendo appunto che bisogna debellare quel disastro che c'è attualmente che è lo spaccio della droga e qui dobbiamo utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione dalle forze di polizia, ma anche dalla partecipazione della gente, ma anche da persone che possono stare nel parco, che lo custodiscono. Non è possibile pensare ad un parco in cui non c'è una o due persone fisse che abbiano la situazione in mano perché non è più gestibile in questo modo. Nel nostro progetto noi diciamo queste cose, suggeriamo anche altre cose come per esempio metterlo in sicurezza dal punto di vista anche degli incendi perché oggi quel parco è a rischio, a forte rischio e lì vicino ci sono le case, quindi io credo che bisogna debellare anche questa diciamo congiuntura, speriamo non accada, però se accade, quindi abbiamo tante cose da fare sul parco. Abbiamo presentato il nostro progetto all'assessore, martedì c'è la consulta della sostenibilità, illustreremo questo nostro progetto, ci confronteremo quindi con l'amministrazione comunale, ma anche con le altre forze. L'importante è che l'amministrazione comunale si metta nell'ottica di affrontare il problema, non dico di risolverlo in pochi mesi perché non è possibile, però deve fare un progetto anche a lunga scadenza che preveda una serie di cose che mettono quel parco appunto in sicurezza e soprattutto che possa essere goduto dai cittadini e dai non cittadini, anche da coloro che vengono a visitare la nostra città e può diventare anche un momento culturale importantissimo per il territorio, quindi per lo studio del paesaggio per esempio. Tutte queste cose vanno coordinate, pensate, organizzate. Grazie mille. Grazie mille.